Quanto è importante lavorare in uffici con prodotti ad alto tasso di qualità, creatività e performance? Parecchio. Ecco allora lo showroom di WM Office, azienda leader nel settore dell'arredamento ufficio da circa 70 anni, che giovedì 19 febbraio ha aperto le proprie porte e ha organizzato un vero workshop su tematiche come l'importanza di un buon isolamento acustico fin dalla sua fase di progettazione, di ergonomia, di partizioni luminose e di pavimenti che migliorano la vita in ufficio senza però mai trascurare il designer unico italiano. Questo percorso che è stato studiato all'interno di questo showroom è veramente emozionale e riesce a trasmettere le competenze acquisite in tanti anni di storia di innovazione di questa azienda, soprattutto perché riesce a concentrare l'attenzione del progettista su diverse tematiche che vanno dall'acustica al design, al colore, alla progettazione dell'innovazione tecnologica di tutti i prodotti che sono esposti. Da questa bellissima mattinata è emerso il fatto che le aziende devono fare rete e anche con i fornitori fare squadra a gruppo perché sostanzialmente oggi è richiesta una competenza di diciamo di tecnologia a 360 gradi e sicuramente IWM oggi ha presentato questa caratterizzazione dei propri prodotti parlando non solo di design e di arredo ufficio ma anche di illuminazione, di comfort, di ergonomia, di acustica che sono tutti temi che sono parte integrante poi della progettazione di un ufficio.